ehi allioppa ciao cannerbullar ciao 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 come state? benvenuti nell'ultima puntata del Midsommas ciao ciao allora questo viaggio è giunto al termine io spero con tutto il cuore che questa idea vi sia piaciuta e vi ho tenuto compagnia per una settimana ogni sera spero di non essere stata di troppo e dunque oggi concludiamo il Midsommas e per concludere ho pensato di proporvi un video semplice così come ho iniziato con un video semplice e ho pensato come avete letto dal titolo di farvi sentire un po' i suoni mi piacerebbe dirvi della Svezia però per ora vi faccio sentire i suoni degli oggetti che arrivano dalla Svezia ho selezionato 5 o 6 cose poi in realtà ne ho altre a casa però ho selezionato queste ci salutiamo con un po' di suoni con un po' di whispering e con gli oggetti del mio cuore allora come non partire da questa bandierina questa bandierina sebbene ricordate vediamo chi c'era già all'epoca l'ho fatta vedere nel mio primissimo primissimo video qui sul canale che se ci penso ora mi metto le mani dei capelli perché l'ho riguardato qualche tempo fa e ho detto tipo oh mio dio ma veramente la gente si è iscritta al mio canale grazie grazie di cuore per avermi dato fiducia perché comunque ero molto impacciata e non lo so non è che mi facciano impazzire i primi video però comunque è un percorso all'inizio anche un po' timidina io nel primo video mi sono presentata facendo vedere tre oggetti raccontando di me partendo da quei tre oggetti e uno di questi era questa bandierina che io ho preso la prima volta che sono andata in Svezia nel 2017 c'è scritto anche qua ho messo un fogliettino ed è nel mio portapenne sempre con me sono molto 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 affezionata a questa bandiera perché l'ho comprata con un'idea ben precisa ovvero quella di tenerla sempre a vista nel portapenne per avere ogni giorno un reminder se così possiamo dire insomma di tante cose riguardanti la Svezia ed è ancora qui dopo tre anni è un po' rovinata però non mi interessa sono tanto tanto affezionata poi la rimetto nel suo posto ora vi faccio vedere un'altra cosa che avete già visto ovvero questa questa bandierina è fatta penso in legno sì tra l'altro ragazzi è fatta troppo bene e l'ho presa in un negozio a Gamla Stan e mi ricordo che c'era questo negozietto troppo carino che vendeva tutti oggettini belli carini e quando sono andata a pagare ho scambiato qualche parola con la signora la proprietaria credo una signora insomma bella grandina non voglio dire vecchia perché non è che fossi vecchia però comunque era abbastanza in là quell'età e non so perché le dissi che avevo preso questa bandiera perché ero innamorata della Svezia e il mio sogno era quello appunto di trasferirmici e lei è tipo tutta felice ma davvero ma che bello e ce n'era una anche più grande ero indecisa ma meno male che ho preso questa perché c'è stata stinto in valigia perché lei mi aveva messo tutto un cartone per non farla rompere quindi era venuto un bel cartone alto e c'è stata proprio al pelo bene ora mi taccio e vi faccio sentire un po' di dà sentirete anche gli uccellini qui purtroppo il tapping non è il mio forte ce lo amo ma non riesco a farlo molto bene perché ho le unghiettine corte e anche questa bandiera sono tanto affezionata questa l'ho presa la seconda volta che sono andata in Svezia poi vi faccio vedere quello che è stato il mio primo acquisto in Svezia in assoluto la primissima cosa che ho comprato ovvero questo cerchietto questo cerchietto l'ho comprato alla stazione centrale di Centraden e niente in un negozietto l'ho pagato un bel po' però ne sono tanto contenta tra l'altro l'ho indossato in un paio di video e ha queste perline dietro è già così tra l'altro mi si era stortato tutto qualche tempo fa però mi sembra abbastanza a posto poi 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 vi faccio vedere questa maglietta maglietta allora in realtà la prima volta che sono andata in Svezia ho comprato questa maglietta che sto indossando tra l'altro l'ho pagata pochissima l'ho pagata tipo l'equivalente di 6 euro infatti 100% cotone a Gamlaston poi quando ci sono tornata la seconda volta ho preso questa qui mi sembra sempre a Gamlaston e questa l'ho pagata l'equivalente di 20 euro e avevano alzato un po' i prezzi però mi è piaciuta perché c'è la renna e la bandiera colorata questa l'ho indossata in qualche video anche questa è 100% cotone ed è un po' più grigina mentre questa sembra nera non so come si vede dal video in realtà è blu scuro comunque avevo fatto un video con le cose che avevo comprato in Svezia l'ultima volta che ci sono andata dell'anno scorso più o meno e lo lascio qua se vi interessa però molte cose sono queste quelle che vedete qua quindi passiamo ora ad una cosa molto turistica ovvero una calamita che ho staccato dal frigorifero apposta per farvela vedere ed è fatta così c'è ancora il prezzo l'ho pagata 69 corone quindi l'equivalente di 7 euro più o meno per sta cosa cioè per sta cosa non che voglio dimigrarla proprio 7 euro però i prezzi erano tutti così e io ci tenevo ad avere una calamita e quindi l'ho presa però carina vero in realtà la prima volta che sono andata avevo preso una calamita con del mucca bellissima mia mamma l'aveva presa e solo che io sono un po' maldestra e l'ho fatta cadere e ho staccato una gamba a bb e poi un piede e tipo io disperata oh mio dio no e alla fine l'ho attaccata cioè questi pezzi li ho attaccati con la colla a caldo ed è ancora sul mio frigorifero perché mi rifiuto di buttarla solo che non l'ho più ritrovata quando ci sono andata l'ultima volta perché se no l'avrei ricomprata stoccolma 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 però è carina vero con tutto lo skyline di stoccolma il prossimo oggettino che vi faccio vedere è questa scatolina che ho comprato a Vaxholm la mia isoletta del cuore che fa un topping molto molto bello è 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 ok allora abbiamo quasi finito ora vi faccio vedere un oggetto bellissimo meraviglioso splendido che userò per fare la foto della copertina quindi avrete capito che cosa è e sto parlando di questo allora no vi prego potete ammirare la perfezione la simpatia e la grazia di questo oggetto allora questo oggettino altro non è che un pela carote e pela patate che tra le altre cose funziona malissimo sarà per la forma non lo so però fa veramente male il suo lavoro però guardate quanto è carino cioè vi prego è una renna è una renna è una renna è una renna pela patate e quando io e mia mamma abbiamo constatato che fa il suo lavoro molto male mia mamma mi fa senti portatelo in camera diridelo come suvenire cosa ti devo dire e ce ne siamo comprato un altro però ragazzi cioè io sono felicissima di averlo preso perché è troppo bello e poi guardate nel manico c'è una renna disegnata la bandiera e la scritta Sweden è che toccando la lava effettivamente non è molto tagliente forse per quello che non funziona non lo so forse il rumore è più bello questo dato è anche carino da fare rilassante e quindi niente non proprio funzionale ma sicuramente molto grazioso poi voglio farvi vedere le ultime due cose due cose allora la benultima cosa che voglio farvi vedere è questo libro che ho comprato la prima volta che sono stata a Stoccolma in un negozietto una libreria che fa mille cose non c'erano scritti i prezzi era un po' caotica però c'era dentro un commesso un po' hipster anche l'uilla con l'età però abbastanza affascinante e quindi un po' tutta questa atmosfera nordica culturale mi ha fatto dire ma si mi prendo un libro anche se non capisco niente in realtà poi ho trovato questo libro che è appunto come potrete vedere dal titolo un libro di poesie contemporanee svedesi però è scritto in inglese e sicuramente l'inglese lo comprendo molto meglio dello svedese al momento e per cui mi sono detta ma si prendiamolo è usato si vede che è usato e quindi niente l'ho preso piccolino anche questo l'ho pagato un occhio della testa ma è usato è usato è usato trovo che questo rumore sia divino ok vi faccio vedere l'ultimo oggetto che in realtà non è una cosa che ho comprato ma è una cosa che ho portato ovvero la mappa che si trova gratuitamente in giro per la città ne avevo prese tipo 5 o 6 e questa qua tra l'altro è tagliata perché è la parte dove vi faccio vedere vedete qua un po' si intravede perché la parte tagliata è dove c'erano le infermate della metropolitana c'è tutta la mappa della metropolitana e mi ricordo che quando sono tornata a casa la prima volta perché questo l'ho preso la prima volta l'avevo tagliata e l'avevo attaccata nella pacheca e avevo cerchiato tutte le fermate della metropolitana più belle perché non so se lo sapete ma a Sottoccolma la metropolitana è tipo una galleria d'arte tutte le fermate sono decorate in maniera molto particolare da artisti di tutto il mondo ovviamente ci sono fermate super suggestive e altre che sono magari molto più semplici però si infatti è considerato il monumento artistico più grande forse d'Europa proprio perché essendo una metropolitana c'è si districa in tutta la città e questo porta anche a vandalizzare non so se si può dire vandalizzare meno appunto la metro perché comunque quando uno la vede così bella non ci viene da imbrattare tutto e quindi si po 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 non lo so che cosa volevo fare beh, insomma cannellbullar questo è stato un video proprio molto semplice per salutarci e allora per concludere questo mezzo maspr vi chiedo due cose la prima se vi va è di farmi sapere quale video vi è piaciuto di più se avete trovato originali queste idee magari nella loro semplicità e soprattutto cosa ne pensate se vi è piaciuta questa iniziativa questo mezzo maspr è dal nome un po' particolare però come dicevo nel video introduttivo non mi è venuto in mente niente di più originale per mettere insieme le due parole per cui cannellbullar fatemi sapere lasciatemi commenti sotto il video che preferite cosa ne pensate se vi è piaciuta questa idea e magari se insomma la possiamo tenere come tradizione inaugurare questa tradizione ogni anno a giugno fare questa settimana del mezzo e niente io vi saluto grazie per essere stati qui con me in questa piccola avventura e noi comunque ci vediamo sul canale con altri video diciamo normali tra virgolette per cui rimanete sintonizzati perché poi comunque la programmazione continua quindi niente io vi mando un bacino e un abbraccio virtuale grande 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 e ci vediamo presto cannellbullar ciao ciao